Un investimento di 350 milioni di euro in tre anni, un piano triennale che non veniva realizzato dal 2014, l'ultimo piano era stato pensato nel 2012 fino al 2014, poi non era più stato previsto un piano triennale, ma solo piani annuali. Questo era molto limitativo perché non dava la possibilità di programmare anche a tutte le agenzie per il lavoro, alle imprese stesse, gli antiformatori, quindi un piano triennale che si basa sul coinvolgimento anche del settore privato, quindi agenzie private per il lavoro, oltre ai nostri centri per l'impiego, il rapporto duale di inserimento nella formazione, cioè avvalersi proprio dell'ingresso direttamente in impresa di chi è che porta avanti i corsi di formazione e lavoro, la creazione di impresa, quindi gli incentivi alla creazione di impresa, ecco tutta una serie di investimenti, di fattori, un forte investimento sull'ITS, quindi usufruire da qui di 16 milioni di euro di PNRR per portare a 26 corsi formativi rispetto ai 15 attuali che si sta svolgendo nella regione Marche, quindi una fortissima spinta all'incentivo, diciamo così, di inserimento nel mondo del lavoro di chi ha difficoltà a trovarlo e a stimolare fortemente anche coloro, che ci sono anche nelle Marche, che i famosi NIT vengono definiti, non studiano più, non frequentano corsi di formazione, non cercano lavoro, sono, diciamo così, persone in attesa, ecco, stimolare questa parte e cercare in tutti i modi di far sì che l'incrocio domande offerta, cioè le figure che servono alle imprese siano quelle figure che noi riusciamo a formare attraverso i nostri corsi di formazione per essere poi inseriti all'interno del mondo del lavoro. Sia i giovani occupati ma anche coloro che purtroppo in un'età avanzata sono fuori dal mercato del lavoro, sono le tre emergenze su cui dobbiamo intervenire in maniera particolare, poi ci sono delle specificità e queste tre emergenze credo che toccano la nostra regione ma come toccano gran parte del sistema paese in questo momento, il sistema paese intendo l'Italia, su queste emergenze ci siamo concentrati e per questo credo che i 350 milioni che sono previsti in questo piano hanno una prospettiva di azione e di risultati che noi riteniamo possano produrre effetti pratici nell'immediatezza.